Fischietta in bocca per l'arbitro Davide Curti di Milano, si inizia sotto una pioggia battente. Arriva a rimorchio Irace, la palla è per lui, cross basso, attenzione! E il rende, sfiora il gol. Arena. Perde la palla Pellegrino, la recupera Nicola Arena, Arena si accentra, attenzione, la sua zona preferita! Greco la tiene, va Nicola Arena, lo punta Miceli, in scivolata lo ferma. Fuori Nicola Arena, infortunato alla caviglia sinistra, dentro il fratello Daniele. Finisce qui il primo tempo, 0-0 tra Akragas e Rende. Il cross sul primo palo, la palla è per Pellegrino, assenzio! La piazza, Greco in angolo, lo va a battere Daniele Arena. In aria di testa, Pellegrino non va fuori di un niente la palla. Paladino, sbaglia tutto, attenzione, Caruso contro Zelletta, supera il portiere, recupera Paladino, Rende vicino al vantaggio. Calcio d'angolo per il Rende. Siamo giunti al quindicesimo della ripresa. Area di rigore affollatissima, dentro anche i difensori centrali. Parte Fiore, palla in area di rigore, di testa Miceli, la palla è lì, attenzione! Rete ha segnato il Rende!